Ciao, io resto a casa e ti propongo la terza e ultima lezione sulla spinatura o sfilettatura del pesce. Dopo aver visto nella prima video lezione come sfilettare un pesce fusiforme medio piccolo, tipo una rata d'allevamento, una triglia, un branzino d'allevamento e poi nella seconda lezione un pesce piatto, in quel caso abbiamo spinato un rombo, oggi spiniamo, sfilettiamo uno di quei grossi pesci tipo un piccolo salmone, un piccolo tonno, in questo caso oggi vedremo abbiamo una ricciola ma potrebbe essere anche un'umbrina o una trota salmonata, insomma quei grossi pesci che di solito in casa vengono fatti al forno proprio per evitare di fare dei filetti oppure vengono tagliati a tranci come se proprio fossero dei salami. Oggi invece no, facciamo una sfilettatura vera e propria di questo tipo di pesci e poi una ricetta che speriamo abbastanza innovativa. Ecco la nostra ricciona, l'ho pulita internamente, ho tolto un po' di spine, non è obbligatorio, infatti alcune le ho lasciate, non è obbligatorio togliere le spine, le pinne del pesce perché non ci infastiscono più di tanto ma io ho sempre paura di bucarmi e quindi ogni tanto le tolgo e questa ricciola è un pesce che non ha bisogno di essere squamato quindi non abbiamo neanche bisogno di togliere le squadre. Dunque, per sfilettare un pesce di questa dimensione dobbiamo innanzitutto allargare, allungare in caso di dire, il taglio che abbiamo fatto per pulirlo internamente. prendiamo il nostro coltello e tagliamo. Ecco. Poi tagliamo qui, così si vede meglio, alla coda. Al contrario dei pesci più piccoli, in cui vi dicevo che la parte della testa deve guardare sempre la mano che non sta tagliando, in questo caso il nostro punto di riferimento è in realtà il dorso del pesce perché è qui che dobbiamo lavorare col coltello. Devo tenere il dorso rivolto verso di me, lavorando con il coltello adesso come vedremo, nella maniera che ci è più comoda. Ora io, per farvi vedere il taglio, mi giro in una maniera un po' più scomoda e in favore di telecamera. Così si riuscirà, spero, a vedere bene. Allora, innanzitutto, pensate che questo è il modo contrario per farlo. Io dovrei stare dall'altra parte, dovrei darvi la schiena ma non lo faccio. Innanzitutto prendo il mio coltello, il mio solito coltello flessibile ma in questo caso potete usare qualsiasi tipo di coltello, basta che sia affilato. Vado un po' sotto la pinna pettorale dove comincia a diventare morbida e faccio un taglio che cerca di recuperare più carne possibile quindi passa sotto la testa. Questo è un taglio che non ho fatto in un pesce piccolo perché non è che recuperate chissà che cosa, ma in un pesce di queste dimensioni più ciccia portate via dalla testa meglio è. Una volta fatto questo taglio prendete questo coltello su e cominciate a tagliare sopra una spina centrale del pesce in questo modo cercando di non sbagliare anche perché questa è l'unica ricciola che ho quindi una volta fatto questo, unite eventualmente i tagli e lavorate io faccio un po' fatica perché non è la posizione corretta lavorate con la punta del coltello cercate la spina centrale, questa, e scalzate in questo modo, con calma io lo devo fare assolutamente con calma, ripeto, perché non è la posizione giusta io vedo pochissimo di quello che sto facendo però almeno voi vedete qual è il lavoro da fare ecco qua ecco qua ecco qua ok, diciamo che è stato quasi buono, per essere stato fatto alla cieca è venuto abbastanza bene rigiro il pesce, lo faccio anche dall'altra parte e qui veramente però sarò costretto a farlo da questa parte perché io non ce la farei proprio più a questo punto altro taglio, così vi faccio vedere, adesso che avete visto la tecnica vi faccio vedere più o meno prendo il pesce, quindi vi faccio vedere più o meno prendo il più possibile da questa parte della testa tengo il pesce fermo con la mano e lavoro anche qua il più possibile con la punta del coltello bella beh Grazie a tutti. 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 E anche questo è fatto. Grazie a tutti. Oggi, dato che abbiamo fatto tutta questa fatica per togliere i filetti, vorrei tentare una ricetta un pochino diversa. Quindi faremo questi filetti di ricciola saltati in padella con maionese di pomodorini di pachino e peperone marinato nel miele. Gli ingredienti ve li lascio qui sotto in descrizione, ma ve li faccio anche vedere. Allora, innanzitutto occorrono dei pomodorini di pachino, un peperone giallo, del miele, va benissimo qualsiasi miele avete in casa, basta che non sia amaro come quello di castagno, ma quindi va bene acacia, mille, fiori, arancio, quello che avete. Della farina che ci servirà per insaporire, per infarinare i filetti di ricciola, dell'olio di girasole, poi dell'olio di oliva per cuocere i filetti e del sale. Buccherello con le punte di una forbice, i pomodorini che lascio pure attaccati al rametto. Li buco perché poi li metterò nel forno, non voglio che scoppino. Lasciateli pure attaccati così, perché poi magari li useremo anche per qualche decorazione. Metto un pizzico di sale e un goccio d'olio. Per riscaldo il forno a 180 gradi. Con un cannello carbonizzo la pelle del peperone. Questo lavoro potete farlo anche su un fornello di casa, non avete per forza bisogno di un cannello professionale, la pasticceria come in questo caso. Io non lo faccio sul fornello perché non ho voglia poi di pulire tutto, ma potete farlo anche in forno. Come avete capito lo scopo è quello di spellare il peperone, potete farlo nel modo in cui siete abituati a farlo. Io amo questo in particolar modo perché è poco sporchevole, però ripeto, se non avete il cannello, un fornello qualsiasi con una bella fiamma fa la stessa cosa. Il peperone è ancora caldo, avete finito di abbustoglierlo, mettetelo nell'acqua fredda con del ghiaccio, così che lo sbalzo di temperatura faciliti lo stacco della pelle. Lasciatelo qua qualche minuto. Una volta arrivato a 180 gradi, infornate i vostri pomodorini e teneteli dentro una ventina di minuti. Togliete la parte carbonizzata con le mani. In questa maniera avrete tolto tutta la pelle del peperone senza averlo cotto in maniera esagerata. Possiamo usare anche un po' di cartola cucina. Tagliate il peperone e guivitelo internamente. Vite le parti bianche. E una volta tagliato mettiamo il nostro peperone a marinare nel miele. Dovrete lasciarlo circa un'oretta fuori dal frigo. Coperto però con una carta, con una pellicola di plastica. Una volta presi i pomodorini dal forno li metto dentro un contenitore alto. Ecco, alcuni li lascio per vedere se magari possono servirci come decorazione. Vediamo dopo. Adesso metto un cucchiaio d'acqua nei nostri pomodorini e comincio a frullarli. Adesso aggiungo a filo l'olio di girasole. Finché non raggiungo la consistenza. Ecco qua. Adesso abbiamo anche la nostra maionese. La mettiamo da parte. Per la maionese di pomodoro aspettatevi un'emulsione di questo tipo. Quindi abbastanza liquida. Non ci sono infatti né proteine dell'uovo che possono legare questa emulsione più di tanto e stabilizzarla. Questa è un'emulsione praticamente di acqua e olio. Mettete dell'olio in padella, olio d'oliva, per esserci una certa abbondanza perché lo porteremo circa a 160 gradi di temperatura. E adesso mettiamo una parte del nostro filetto di ricciola. Prima però infarigniamolo bene. Miniamo la farina in eccesso. Aspettiamo che l'olio sia caldo, deve sfrivolare. Se volete provare con un po' di farina se si consuma. Poi mettetelo dalla parte della pelle. Cuocete il vostro filetto per circa 1-2 minuti per parte. Prendiamolo. E prendiamo il nostro filetto. Mettendolo su della carta da cucina a sgocciolare bene. Prima di cominciare ad impiattare, controlliamo la nostra maionese di pomodoro e se si è probabilmente smontata, diamole un altro colpo di mini-peamer. Ricordate che la maionese diventa tanto più densa quanto olio mettiamo. Io a un certo punto mi fermo perché non voglio una cosa molto densa. Non pensate comunque di avere la densità assoluta di una maionese con il tuorlo d'uovo. E adesso cominciamo a impiattare la nostra ricciola. Cominciamo a mettere la nostra maionese. Cominciamo a mettere la nostra maionese. Togliamo subito l'avventuale di spavature. Nel frattempo ho preso i peperoni, li ho messi in un pentolino, li ho fatti bollire per un 4-5 minuti. E adesso, che sono finalmente pronti, li ho messi in un po' e li metto sotto la nostra maionese. Prendiamo il nostro filetto, lo appoggiamo. Saliamo con pochissimo fior di sale, che sto usando del sale maldon. Se voglio posso mettere un po' di scorza d'arancia per profumare il piatto con un tocco da grumi. Se non avete l'arancia, va bene anche il limone. E per finire, una fogliolina verde, per dare un po' di colore. Vedete, in questo caso sto usando delle piccole foglie di menta per dare un po' di freschezza, ma potete usare anche del basilico oppure del timo, che vanno perfettamente bene lo stesso. Ecco qua. Ecco il nostro filetto di ricciola con maionese di pomodorini pacchino e peperoni marinati nel neve. Con questa terza lezione terminano le piccole lezioni su come sfilettare i pesci, ma non finiranno le lezioni su come cuocerli. E quindi ci rivedremo per la prossima puntata. Continuate a rimanere in casa. Tanto ci resto anch'io.